Nel periodo dell'inganno universale raccontare la verità è un atto rivoluzionario. Nonostante la tecnologia avanzata dei multilivelli nella generazione di immagini computerizzate, la NASA è ancora incapace di eliminare le bollicine nello spazio. Bollicine nello spazio! La prossima estate state pronti per una rivoluzione così incredibile che solo i più attenti osservatori, gli intuitori e gli imparziali saranno in grado di risolvere. Bollicine, bollicine, bollicine nello spazio! Bollicine nello spazio! Inizia oggi in tutti i cinema! Musica 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 Musica